Ma sei un artista o un artigiano? Questa è una delle domande che mi sono posto di più. Ma sappiamo veramente qual è la differenza? No. Ok, l'artigiano crea per funzionalità. L'artista invece è la massima espressione della propria interiorità. Siamo sicuri che sono due cose che non possono coesistere in una persona? Allora, uno dei miti greci che mi ha sempre colpito è quello di Pygmalione Galatea. Qui alle mie spalle. Pygmalione, scultore di Cipro, decise di scolpire una scultura femminile dall'aspetto perfetto. La chiamò Galatea. Lo scultore si innamorò perdutamente della sua scultura e Afrodite trasformò la pietra in carne e sangue. Il mito racconta la profonda connessione emotiva che un artista artigiano può avere con la sua opera. Questa dualità riflette la fusione di tecnica perfetta e massima espressione della propria interiorità. Ci sono artisti con anima artigiana e artigiani con il cuore artistico.